Mi controlla. Allora cerchiamo una ragazza con un trencio giallo, le trenci gialle che ci stavano qui scrisate. La verità ci sta da te, io ci mi sto con la macchina, e come si chiama? Eh non lo so, allora... Gelo... Il localizzatore va anche la trova. Un attimo un po', allora... Ci deve stare il nome e il cognome? Eh, però quello è il problema perchè non la riusciamo a racchiappare perchè qui c'è non c'è tempo questa per morire. Fucs? Fucs? C'è, non è fucs. Allora... Il trencio giallo. C'aveva un trencio giallo fucsia. Si è passata. E c'aveva i stifani a tipo quelli da pescatore? Si. Viola? L'ho già vista, si. Andata da quella parte, poi non lo so dove è andata. Si. Si. Perchè ci hanno detto che c'è un po' di... Eccolo, eccolo, il localizzatore l'ha trovata, l'ha trovata, l'ha trovata. Sta da quella parte, sta da quella parte. Si, l'ho già vista la via la stazione. C'ha un po' di polverina fresco. Si. Secondo voi che polverina può tenere? La trova alla Coca-Cola. Ma è vero che questo montone l'hai pagato un montone di soldi? No, qui ci mi ha dato... Ahahahah. Io me li ha giocatato diretti. Muc fu l'inverno, me li ha detto. Mi ha smitto dopo questo. No perchè... L'ha trovata, l'ha trovata, eccola qua. Sotto la stazione... No, dove sei che vado di chi? Ti dico che lambeggia? Sta vicino? Si, si. Si, si. Si, si. Dice, gira a destra, gira a destra. No, si. E io te la trova, no. Noi facciamo una cosa. Se tu senti la sirena... La sirena che si accende... Che senti la sirena... E la te si accende. E' normale che si accende. Noi, noi stiamo... Noi la siete trovata. La stazione... O fa... Vieni ci potete... Siamo borghesi mo. Purichetong. Purichetong. E perchè non la vedi? Quella sembra vera. Mica Purichetong. Guarda la i comandanti dai giubini stracciati. Mica questa... Ma io la divisa non la tengo perchè andaccia. Ma non è arrivata la divisa. Eh... Mares какo fai un momento. Magmiti... Maresciallo, fai un esposto in questura, dai. festa arrestata. E poi vuoi스�塞. Marescial, scrivi. Marescial. Mi raccomando fai l'esposto. Marescial Un esposto diretto. Le doveva niente? Manna... Ora la troviamo noi. Via Molino. Via Molino. Via Molina numero 21. Via Molino coca bianco? No via Molino numero 21 Via... Chiss suppose 2? è rosso fisso, è polverino, è russi fatta è rosso comunque è una croce ci sta? è masona ma davvero? mi piace la croce non mi piace manca a me, poca gente ma perché non ti piace? non mi piace perché quando la faccio sto fatta pure la faccio fammi fare questo montone, scusate po' aspettate po' no, questo è il localizzatore porta sotto a Don Roche stai vicino a Don Roche che taglia può essere? una S le divise sono larghe no, a me non mi piace quella vista larga ma come la vuoi vista? no, quella S è sozzaccata non ti preoccupare sono garrato sono garrato può essere pure può essere comunque si è fermata sta giù da Don Roche noi andiamo a vedere Elena si sente lo sireno ma è fucsia giallo, è giallo fucsia questa si vede da lontana perché Elena rimme la verità prima io taglio la parte poi non gli taglio la parte poi non gli taglio la parte via 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 ciao ciao nvi